Lo hanno atteso nel giardino accanto alla sua azienda, poi lo hanno minacciato con una pistola picchiato e legato. Una cruenta rapina e danni di un imprenditore ora fuarettino di 49 anni, abbi le sue iniziali, si è consumata all'alba a Badia Alpino, comune di Civitella in Valdichiana, nei pressi della stazione. I malviventi, almeno due secondo le prime ricostruzioni, hanno preso di mira l'azienda Femmena SRL. Quando l'imprenditore è arrivato al lavoro all'alba, ha avuto l'amara sorpresa di trovarsi di fronte i due rapinatori, che, armati di una pistola, lo hanno costretto con le maniere forti a consegnare tutto quello che era contenuto all'interno della cassaforte. Poi lo hanno stordito con un colpo alla nuca con il calcio della pistola. Quando è scattato l'allarme sul posto sono giunti i carabinieri che stanno procedendo con le indagini. Il titolare dell'azienda, in stato di agitazione per lo shock subito, è stato accompagnato dal 118 in ospedale, in codice giallo.